Allora, qui c'è un quadro che come dimensione, vedete, è piccolo e contenuto. In genere io amo dipingere sulle telegrandi, però questo quadro, che io ho chiamato Efervescenze, ha proprio avuto la nascita in questa piccola, simbolica dimensione, perché è un po' nell'accezione che io ho della realtà, il simbolo dell'Efervescenza vitale, della germinalità, infatti voi vedete come tutte queste parti, siccome si fondano all'interno l'uno dell'altro, è nella mia visione, ovviamente, ci sono i problemi della vita, della nascita o della rinascita. Grazie.